L'agricoltura e la nominatura economica il settore primario, però purtroppo questa terminologia, questo modo di riferirsi all'agricoltura che dava anche un po' il carattere di fondamentalità, di centralità di questa attività nel nostro sistema economico col tempo si è un po' perso. Invece con questo governo ha fatto una scelta molto precisa di chiamare addirittura il Ministero dell'Agricoltura il Ministero della Sovranità Alimentare. E' questo un modo per restituire centralità a questo settore? Sì, uno degli obiettivi sicuramente del governo e del Ministro Luigi del particolare è stato esattamente questo, quello di ricordare centralità, di ricordare nel dibattito nazionale l'agricoltura al centro. Ci ricordiamo perfettamente che nelle prime ore del nuovo governo, oggi è venuto il 25 settembre, è esattamente un anno preciso dalle elezioni dell'anno scorso, nelle prime ore del governo, che sparò, mi sembra, la squadra il 21-22 ottobre, ci fuori una serie di piccole. Grazie.